ciao a tutti ragazzi eccoci qua per questo nuovo video oggi vorrei tirare delle conclusioni di questo 2022 un 2022 che ha visto il canale il motociclista solitario arrivare alla fatidica soglia dei 1000 iscritti e addirittura superarli siamo arrivati a 1.350 adesso e ragazzi se non l'avete ancora fatto iscrivetevi e entrerete nella famiglia io ne sarò molto contento diciamo che ogni iscritto che arriva io sono sempre soddisfazioni ad ogni iscritto sono sempre contentissimo perché vuol dire che comunque mi interessano i miei video e comunque faccio qualcosa che piace alla gente quindi ragazzi lasciate un bel mi piace per i video futuri video passati quello che è un 2022 che purtroppo comunque ha visto il mio viaggio diciamo top dell'anno andare un po sfumare per varie vicissitudini che non voglio ricordare però diciamo che sono andato un po a tappare il buco di questo di questa disavventura andando a fare ad esempio l'eroica andando a fare qualche passo in slovenia vi ricordo secondo me il mangard ragazzi andate a fare il mangard perché è spettacolare per chi non l'ha fatto magari vi metterò la in alto a destra per andare a vedere il video e poi ragazzi secondo me è da fare e a mio avviso più bello addirittura del gloss rockner ho fatto anche quello la settimana qualche giorno dopo aver fatto un mangard quindi diciamo che ho cercato di portare delle alternative al video principale che era quello di caponor che è andato diciamo male però vediamo l'anno prossimo se rifare o no fare qualcos'altro devo ancora decidere e quest'anno non faccio programmi non faccio progetti non faccio niente quando arriveranno le ferie deciderò poi ragazzi starà voi a scoprirlo e quindi iscrivetevi al canale ma veniamo al dunque del video che tanti di voi penso che abbiano aperto soprattutto per questo per farvi un po' i fatti miei ovvero per sapere quanto ho guadagnato con 1000 iscritti allora io lo faccio soprattutto ragazzi per essere onesto e trasparente con voi perché penso che sia l'onestà e la trasparenza la prima cosa che una persona uno youtuber chi che sia debba avere con i suoi follower che comunque diciamo danno danno sostegno appunto al canale guardando i video mettendo i mi piace e tutte queste cose qua che magari per voi è poco ma per noi è davvero tanto passiamo adesso vi faccio passare una schermata della cifra che in teoria ho guadagnato con 1000 iscritti che di qualche parte ve la metto che sono circa 130 euro ve lo dico subito però questi soldi ragazzi tra virgolette io non li ho incassati perché ho deciso di mettere una soglia di pagamento abbastanza alta dovrebbe essere 1000 euro ho messo questa cifra di soglia di pagamento perché prima di essere pagato ok da youtube voglio regolarizzare la situazione ovvero aprire una partita iva e subito dopo appunto poter incassare questi soldi come ritengo giusto che sia onde evitare che la finanza mi venga a prendere sotto casa sono pochi soldi però sicuramente vanno dichiarati quindi prima di incassare i soldi voglio avere la certezza di avere qualcosa ok qualcosa che mi copra almeno non dico i primi due ma almeno un anno e mezzo di partiti tenuta di partita iva perché se no non conviene neanche tirarli giù quindi da youtube ho guadagnato questo inoltre lo stesso discorso l'ho fatto con un'altra cosa ovvero non so chi lo sa ma qua in descrizione c'è sempre un link che porta a diciamo il mio store che si chiama aimbiker.it dove c'è presente una sorta di diciamo una sorta di negozio di magliette felpe dedicate ai motociclisti con grafiche per un motociclisti intanto magari vi faccio scorrere qualche immagine di questo sito e questo sito diciamo non è gestito direttamente da me io carico solo diciamo le le grafiche creo tutte le magliette le felpe però se voi fate un ordine su questo sito in pratica c'è un'azienda che stampa la maglietta direttamente e ve la manda a casa questa cosa si chiama print on demand ho deciso di far così di fare una cosa del genere perché comunque per creare delle magliette dell'effetto che possono contraddistinguere un motociclista io comunque le compro anch'io quindi a me comunque mi fa piacere che di creare qualcosa di lasciare qualcosa quindi se vi piacciono compratele se non vi piacciono non compratele comunque il sito resta se vi fa piacere per bene se no anche da questo io per il momento non ci sto incassando niente perché io avrei una piccola percentuale sulle vendite che però anche lì la tengo lì ferma fin quando arrivo una cifra abbastanza buona da poter appunto coprire le spese di apertura di un'azienda visto che se comprate la maglietta da questo sito ve la spediscono ve la fanno loro e ve la fatturano loro quindi io per ora tutti i soldi che tra virgolette ho guadagnato con youtuber non li ho incassati non li ho presi non li ho visti quindi ragazzi ricapitolando tutto se mi dite quanto hai guadagnato con youtube vi dico che non ho guadagnato assolutamente niente anzi ne ho spesi tra attrezzatura tra viaggi e tutto ma gli ho spesi non per youtube ma per la mia passione ragazzi quindi poi penso che sia giusto che se c'è un ritorno economico sicuramente almeno magari qualche spesa riesco a coprirla però per il momento ragazzi gli introiti sono zero perché li ho lasciati li fermi evitare di aver problemi col fisco e tutto quindi giustamente e vi parlo di questo e niente ragazzi concludendo questo video spero che la mia onestà la mia trasparenza vi sia stata gradita diciamo niente ragazzi iscrivetevi al canale se non l'avete ancora già fatto mettete un bel mi piace se vi è piaciuto questo video ci vedremo sicuramente settimana prossima per gli auguri di natale adesso vedremo un po cosa fare per natale e grazie ancora ragazzi per tutto alla prossima ciao ciao